Ehi ragazzi come va? Io sono FeriNiki E io sono Steph e che se oggi giocheremo a Minecraft Prima di tutto ci tengo a precisare che questa mappa l'abbiamo vista sia da Stepney sia da Surreal Power Tanto tempo fa, l'abbiamo anche già giocata Ma siccome ci piace tantissimo abbiamo deciso di provare a farci una mini serie Visto che stiamo aspettando di iniziare la nostra serie survival E che dire, è una figata di mappa, è bellissima, una delle mie preferite Sì 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 sì, mi ricordo quando l'abbiamo giocata ci siamo divertiti tantissimo Perché è davvero carinissima Allora come funziona? Funziona un pochettino come la Skyblock Noi inizieremo che siamo su un'isola minuscola Il nostro obiettivo sarà quello di completare delle missioni E man mano che completeremo le missioni apparirà un'altra isola Quindi diciamo che bisognerà sopravvivere tra queste isolette fluttuanti Esattamente, le prime missioni saranno semplicissime Dopodiché diventeranno davvero davvero difficili E in ogni isolotto ovviamente troveremo cose diverse Quindi il gioco ci inizierà a dare a disposizione diversi materiali Per poter sopravvivere sempre meglio Sei pronta? No So quanto è difficile e non sono mai pronta per fare questo tipo di mappa Andiamo Iniziamo assieme Ok io non devo provare Ok Allora Io parto già che ho fame Non è giusto Davvero? Davvero? Sì guarda Ti manca un cosciotto di pollo Mi dai un cosciotto? Io sono a posto Ho già mangiato Io signor maialino anche se non c'è Però sai che lui è sempre presente No Non ti vogliamo dare Dammi una cosciotta No non mi buttare giù Dammi una cosciotta Guarda che sei lì nel bordo Sì un colpo cadi di sotto Allora Ovviamente prima missione la vediamo qui a destra Difficilissima Raccogliere legna Raccogliere legna molto molto semplice Va bene raccolgo anch'io Ok Quindi praticamente adesso ci prendiamo questo bel blocco di legno E puff Come per magia compare una bellissima torre Una bellissima torre Cosa sto dicendo? Una bellissima isolotta Un altro isolotto infatti Quindi vedi molto semplice Molto semplice Alla fine penso che sia semplicissimo proprio da comprendere Esatto Seconda missione Fare la pickaxe di legno Perfetto Anche questa è semplicissima Vieni da questa parte Dai facci No Facci vedere le tue dotti di parkour No 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 Continua a raccogliere la legna Va bene Allora allora Prendiamo un po' di legna Così ci facciamo un pochettino tutti gli attrezzi iniziali E poi continuiamo Assolutamente Io direi anche di far distruggere tutte le foglie Che non si sa mai che caschi un altro alberello No? Perché poi magari lo possiamo ripiantare Ti dà una brutta notizia? Dimmi Questo è l'albero da quattro alberelli Cioè per piantarlo Dobbiamo metterne quattro intorno Quindi non solo devi prendere un alberello Ma ne devi prendere quattro Vabbè Vabbè vediamo se ci appare qualcosa Perché comunque sarebbe utile avere la fonte Tra virgolette Fonte infinita di legna Esatto Infatti una cosa che forse ci conviene fare È fare un pochettino di piattaforma intorno Esatto In modo tale Da non far rischiare di cadere le nostre bellissime I nostri bellissimi alberelli E le nostre risorse Perché se prendi male ti casca anche la legna di sotto Bisogna molto fare attenzione È vero Vediamo un attimino se ci va bene con gli alberelli Prima di tutto faccio un altro po' di piattaforma anche da questa parte Vai 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 Aspetta che devo scendere Ci pensi tu alla legna in alto? Vedi che c'è ancora quello Ovviamente le foglie non si distruggono Esatto Se non facciamo tutto Allora sto facendo una mini piattaforma anche da questa parte Perché non dobbiamo rischiare nulla Perché se finiamo di avere gli alberi Ah ok ok Praticamente come ho preso il pezzo di legno Ho visto il blocco volare Ho detto non mi dire che è caduto nell'unico buco In cui non avevi finito la piattaforma Invece no Invece no Un alberello Ok Dai buono 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 Almeno uno Già uno lo abbiamo Almeno uno Ce ne serve uno o quattro Altrimenti siamo nei guai più totali Ma immagina se non ne trovi nulla Quindi secondo me è una buonissima cosa Non cambia nulla Dai vedrai che li troviamo Esattamente Tu se vuoi inizi a creare un crafting table Lì giù E magari inizi a fare anche il pkx Così compare la seconda isolotta Ok Ok perfetto Così almeno faccio qualcosa di utile Invece che guardare il mio sederino mentre lavoro Lo so che mi stai riguardando il sederino No Sei molto brutto io ti dico la verità Scusami Guarda come ti guardo male Scusami Guarda che bello che sono Non ho interesse a guardarti Se non per votarti di sotto Allora la crafting table Voglio dire di mettercela qua Guarda che carina Non deve essere carina Siamo agli inizi A fare le cose Deve essere funzionale Non carino Ok Ho preso un alberello Non so come Bene Quindi l'altro lo abbiamo Due Una mela La mela Buona Prendila 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 Io ne ho due Ok Tu ne hai Uno Ok Scusami che ne abbiamo solo tre In più Piantare gli alberelli Secondo me conviene rimetterlo perfettamente nella stessa posizione Anche secondo me Perché abbiamo fatto un po' una piattaforma intorno Diciamo che siamo più sicuri Esatto Che così non cada Io spero che non ci ponino mob ad osso Ci sei? Sì Teniti questa e dammi gli alberelli che li pianto Su Ok Dammeli Dai Uno e due Dai che mi piace piantare gli alberelli Quattro giusti ne abbiamo trovati Sì Giusti giusti Magari ci sono anche un po' di foglie Allora lo faccio sempre qua ok Ok Quindi non mi sposto troppo così Va bene? Va benissimo Perfetto perfetto Allora Oddio Che c'è? Ho visto un ragno cadere da quell'isola Mi ha fatto troppa paura Mi ha fatto troppa paura Sì perché nella nostra isola mi sa che non possono spawnare mob Nelle altre isole Però nelle altre sì Sì quindi ho visto questo ragno con la coda dell'occhio che stava cadendo Ho fatto oh mio dio ma che accidenti è Invece era solo ragno Poverina si è spaventata Allora Sì Che facciamo iniziamo ad andare nella prima isoletta Allora Anche perché la prossima missione è fare la fornace Quindi ci serve per forza la pietra Per prendere la pietra ci dobbiamo fare una bella pietaforma In modo tale da non sprecare in assoluto nessun materiale Esatto importantissimo non sprecare nulla Perché le cose sono molto limitate quindi dobbiamo fare attenzione Praticamente dobbiamo Ok Andare così Mirare qualcosa in basso Buttarci giù Sfruttare questo blocco Per piazzare Tutto giù Ok Ok Scendere anche qui sotto Ritagliare questo Non farlo cadere Ok Ok L'ho preso L'ho preso Bravo Adesso faccio una bella pietaforma cointorno Poi puoi venire a minare Perfetto C'è la luna Se l'ha detto le pietaforme Uh 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 un altro alberello Solo perché tu soffri di vertigini Sì Nel mentre puoi fare una bella ceste Cioè Ah sì 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 hai ragione Aspetta abbiamo molta legna Quanta legna hai tu? Eh sì ne abbastanza Ok Ne ho anche altre da trasformare Ho quasi due stack guarda Perfetto Quindi ne ho Meno male Meno male Perché altrimenti Sai l'alberello Ok che crescerà Però ci metterà un bel po' di tempo Quindi averne un pochettino Diciamo che fa comodo Ho fatto una bella pietaforma Però ho un problema Solo una ne faccio di ceste Sì 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 Per ora sì Che problema hai? Eh che ho finito i blocchi E non so come tornare a casa Ah no guarda Ne ho altri otto Scusa Ce li hai? Altrimenti ti rilancio da sotto Ce la dovrei fare Allora la chest Facciamo così Mettiamola in un punto carino Perché ovviamente Dobbiamo puntare Ciao A farci l'isoletta carina Non ci provano Ah Iago a che cado Appunto Allora la mettiamo qua guarda Poi penseremo magari A farci anche un rifugio Quando espandiamo la piattaforma Perfetto Metti tutta la tua legna Metti tutto quello che hai L'alberello Se muoio Almeno tutto è conservato Ci stiamo capiti subito Meglio prevenire Meglio prevenire Sappiamo che tu non sei proprio una Che non cade mai Allora io finora Non sono neanche caduta Quindi mi sto comportando benissimo Abbiamo iniziato da cinque minuti Non si sa mai Magari inizi e caschi Non si sa mai Non si sa Può succedere A chi? A te Magari sei convinto Di voler andare dritto in una direzione Non vedi il vuoto e cadi Sì sì Molto probabile Tante cose possono succedere Hai visto che bellina la mia piattaforma? Sto iniziando a minare senza di me Ce n'è bruttissimo Ah volevi minare anche tu? Scusami Stavo aspettando Vieni 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 E non mi hai avvertito Volevo minare anche io Tutta questa pietra L'importante è che non cadi Perché guarda che il bordo è piccolino Quindi ogni tanto guardati a sinistra e destra Perché questa pietra è importantissima Ah non ne ho bisogno Non ne ho bisogno Che non ne ho bisogno Non ne ho bisogno di guardare in terra Ok Ascoltami La prima Ok Questa la lasciamo qua Ok è scomparsa Quanti blocchi di pietra hai? Attenta che hai due materiali diversi Lo so Ho la cobblestone È l'andesite Esatto Andesite Non so come si pronunci scusatemi Ok Comunque ne ho due di cobblestone E tre di andesite Perfetto Ci mancano due di cobblestone Ok Quindi dobbiamo per forza distruggere anche l'altra Vieni a depositare tutto così Abbiamo rischi inutili È caduto un altro alberello Quindi ne abbiamo due extra Bello Sì Questo è bello Sì 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 Già averne partire con due non è di certo male Diciamo che ci sentiamo un po' più tranquilli Allora mentre io faccio la pietaforma Tu secondo me puoi scavare un pochettino la terra della nostra isola Quindi in basso Sì Poco poco Stai attento a non cadere Cerca di capire dove finisce e dove non finisce E cerca di prendere qualche materia luzzo anche dalla nostra stessa terra Non so cosa ci starà dalla nostra Ricorda che questa terra bene o male è l'unica terra che avremo Ok Quindi siccome ci servirà per coltivare e per fare alberi Stai attenta Allora sai cosa voglio fare? Ok Non mi piace questo tono Tipo un rifugio qui sotto Un rifugio sotterraneo Ci stai? C'è bisogno Ed è piccolino per metterci le prime cose Anche perché poi si iniziano ad arrivare mob Guarda che ti voglio vedere Cioè scusami Voglio proprio vedere Questa è una serie di sopravvivenze Tu stai pensando a fare cose carine Certo Certo cosa? Bisogna pensare anche alla comodità Ok? Che dobbiamo sopravvivere Ma non è che Oh no allora lì c'è il vuoto Ok Ok Buona saperti Attenta Vado? Vai 3, 2, 1 Spim Dov'è? Dov'è? Uh bella Questa è bella grandicella Bella grandicella Questa mi piace Allora se ricordo bene Vedi che ci sta chiedendo di cucinare chicken Ok Ok quindi carne di gallina Praticamente se ricordo bene Ma povere Dentro quell'isola non ci sono galline Ma c'è uno spon di scheletri Però quegli scheletri droppano galline Ok Ok Quindi ora si farà complicato Perché tu dovrai andare lì Fare una bella pietaforma Creare uno spawn Oddio c'è uno scheletro che ci mira No non me lo dira E a quel punto C'è sfruttare lo spawn Per ammazzare scheletri Fino a quando non trovi la chicken E a quel punto cucinare la chicken Ok Che cose complicate Inizia a complicarsi un pochettino Ci serve assolutamente che spawni quest'albero Perché sta diventando un problema Non avere legna Eppure questo è ancora fermo qui Guardalo Ci sta mettendo tantissimo tempo Vabbè normale Normale certo Lo so Mi sono fatta anche una bella spada in pietra Guarda che bella Cioè ti fai le spade in pietra senza dirmi nulla Si Sei un egoista Lo so Sei una persona molto molto egoista È perché dobbiamo ammazzare gli scheletri Che compariranno lì Però allora io ti dico Secondo me ci conviene fermarci così Perché tanto fino a quando non cresce quest'albero Non possiamo fare bene la piattaforma Non possiamo finire la piattaforma E non possiamo fare bene uno spawn Quindi conviene fermarci Aspettare che cresca l'albero E dopodiché continuare Ovviamente ragazzi Nei commenti fateci sapere Se volete questa miniserie Questa serie Perché noi l'abbiamo iniziata Perché abbiamo provato un po' di minigames Però molti Diciamo da giocare in due Non sono divertenti Perché risultano caotici Quindi abbiamo pensato Ok Cosa facciamo Mentre finiamo di preparare la nostra serie La Skygrande ci piace molto Proviamo a portarla Decidete voi se continuiamo la serie o meno Noi comunque ci baseremo sui commenti Sulle views Sui likes Certo E in questi giorni decideremo se continuarla Spero di sì Perché è molto molto carina Secondo me questa è carinissima Da fare così in due Poi Ferini che ha fatto una base così carina Ragazzi Allora Guardate Vieni di nuovo sotto Cioè Eh Volete vedere il seguito 5 stelle più Certo Sì questo è un albergo di lusso No? Bellissimo Tutti si chiedono cosa ci sarà in questa base Nel prossimo episodio Tutti si chiedono come ha fatto Per una base così bella Tu mi ha fatto scavare È possibile Comunque sì Dicevo È molto carina da fare in due Mi sembra anche la più adatta Diciamo Appunto per non risultare troppo caotica Come potrebbero risultare altre cose di Minecraft Esattamente Beh ragazzi Se ci piace così Se ci piaceci un bel like E se è la prima volta che vedete il nostro video Potete considerare l'idea di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao ciao A presto